Via libera del Consiglio Comunale di Campobasso al DUP, il documento unico di programmazione 2024-2026, approvato con i voti della maggioranza, con l'assenzione del gruppo di Forza Italia e con il voto contrario del resto dell'opposizione. Una seduta nel corso della quale non sono mancate le polemiche con il consigliere Domenico Esposito, che in particolare si è soffermato sulla relazione dell'assessore al bilancio, che ha detto si è limitato a leggere l'elenco delle opere pubbliche in fase di realizzazione, ma nessuno accenna gli oltre 8 milioni di euro programmati dall'incasso di Tari per il prossimo anno, aggiunto che andranno a finanziare ulteriormente la società SEA che eroga servizi pubblici essenziali con socio unico, il Comune di Campobasso. Il capogruppo della Lega Alberto Tramontano, invece sottolineato come il DUP, presenti luci ed ombre, i finanziamenti del PNRR e il CIS insieme ai fondi per la riqualificazione energetica degli immobili comunali rappresentano un'occasione unica per la città che da qui a pochi anni potrebbe assumere lo status di città europea, ha dichiarato sul piano strategico programmatico ci sono luci, ha proseguito Tramontano, sulla gestione ordinaria molte ombre, la gestione del verde pubblico approssimativa e carente, la viabilità soprattutto in periferia accidentata, la raccolta differenziata al palo, ma l'elenco a giudizio dell'esponente della Lega è lungo. Campobasso attende un cambio di passo deciso, ha concluso Tramontano, che deve essere sostenuto da una classe politica all'altezza, competente e preparata.